Scivolare sull'acqua in totale libertà, in due parole Cable Wakeboard, la nuova frontiera del wakeboard sport che ha combinazioni di scinautico, snowboard e surf. Si pratica agganciati con una fune ed uno skrift installato sullo specchio d'acqua il cui cavo traina gli atleti in evoluzioni d'effetto. Le immagini che state vedendo sono girate presso l'impianto Hot Lake a Manopello Scalo in provincia di Pescara. Qui abbiamo incontrato Emanuele Meme Pagnini, pluricampione europeo e mondiale anima del movimento SITD in Italia, cioè quello praticato con la tavola adattata per persone con paraplegia o altre malattie che ne limitano l'uso delle gambe. Noi facciamo promozione su questa attività per persone con disabilità che è bellissima e adatta a tutti. Qua per esempio abbiamo 16 ragazzi un po' da tutta Italia, alcuni locali, altri che ci seguono in questo progetto che è itinerante a livello nazionale e siamo contentissimi di essere qua da Gianni Santomo che ci ha accolti come nel migliore dei modi ci sentiamo come a casa. È uno sport freestyle quindi si usa una tavola, si va in acqua un po' come lo scinautico però a differenza proprio dello scinautico che cosa si fa? Si fanno delle figure in acqua, dei salti, acrobazie che nelle gare poi vengono giudicate in base alla difficoltà e alla performance. Nello scinautico si viene trascinati da un motoscafo o una barca invece in questo caso? In questo caso abbiamo un cavo elettrico che ci traina intorno a un lago, normalmente la forma di questi impianti è pentagonale o esagonale quindi si fa un perimetro sul lago, si fa sui laghi perché c'è bisogno di acqua piatta e quindi non si può fare in mare e in acqua si montano delle strutture ostacoli che si permettono di fare salti o di scivolare su dei tubi come fossero dei rail, un po' come succede nello skateboard che oggi è disciplina olimpica o addirittura nello snowboard, nello slope style anche essa disciplina olimpica quindi ci auguriamo che anche questo sport che noi amiamo tanto diventi olimpico. Motore ed ideatore di Hot Lake e della crescita in Abruzzo del wakeboard è Gianni Santomo che guarda oltre. Si deve diventare una cittadella sportiva, ai responsabili a cui mi sto rivolgendo abbiamo chiesto se sono capaci di creare emozioni dal sorgere del sole al tramonto e questo ovviamente è il beneficio di tutti immagino, deve essere un progetto sì futuristico ma futuribile, cioè fattibile. Stiamo parlando del progetto di Moime Pagnini però chi viene qui a Hot Lake a Manopello Scalo può provare sicuramente a cimentarsi con il wakeboard? Ma certamente sì, anzi siamo qui per questo, abbiamo istruttori come Damiano Solbiati che è un istruttore federale ci sono altri istruttori e soprattutto siamo a disposizione di qualsiasi sportivo che esso vuole provare.